Lui mi intima di lasciarlo in pace. Io gli rispondo, lo vedi che mi ami? Lui scrive, piuttosto che tornare da te, mi uccido. Questa è una chiara dichiarazione d'amore. Sei stata tu a dirmi che questa volta è veramente finita. Sì, ma è normale che io lo dica. Funziona così, è il gioco delle parti. Io dico, questa volta è finita. Tu devi dire no, vedrai che torna. Ma perché piangere tutte di notte? Tutte? Tutte? Sempre, dalle 3 alle 5 del mattino. Chi sono queste tutte di cazzo? Ma spero che, non dico, io spero che tutte le donne, anche gli uomini, non lo fanno. È un film che racconta due personaggi e cerca di raccontarli con i loro difetti e le loro qualità. Uno è un uomo e uno è una donna. Non ha questo così forte messaggio solo alle donne. Ecco, quindi, poi forse la risposta più secca è per essere di buon umore, anche se sono single, per essere tanto contente. No, adesso abbiamo anche limiti, necessità di sintesi, però lui a un certo punto non riesce a stare dentro quello che è, così come l'ho vissuto io, poi sai, ci sono sul punto di vista, quello che è un rapporto importante. Lui incontra un'anima gemella per molti versi, cioè noi non raccontiamo tutta una fase di relazione che giustifica anche la reazione al dolore del personaggio di Claudia. Quindi loro, però quello che dicevo anche prima, l'amore ti fa crescere e quindi un po' ti spoglia gli orpelli. Flavio viene spogliato a questi orpelli che sono, ahimè, patriarcali, che sono orpelli appunto di posizione, di potere, spesso inconsci, sono appunto di una certa vanità non riconosciuta. In questo senso poi lui, questa donna gli fa mancare il terreno sotto i piedi e cosa fa? Lui scende di andare via e quindi non sa stare nell'amore, però è un problema comune, per quello dico è un mondo, cioè un mondo che è, Flavio è come tanti uomini che io ho conosciuto, magari ci saranno anche donne. Ma sicuro, c'è. Io attacco dei gran bottoni con tutti, mi attacco, rovescio il problema addosso a chiunque, non lo so, io in questo assomiglio abbastanza a lei, sì, non so che dire su come reagiscono le delusioni. male, ovviamente, ma io sono molto drammatica come persona, non ho tante ironie in realtà, quindi vivo tutto in maniera un po' estrema. Eccessiva. Non sono arrivata al momento come Claudia che riesce addirittura a metterci un'ironia dentro, invece vivo tutto un po' in maniera più seria. Ma, allora, devo confessare che non lo so, nel senso che probabilmente è una fase di transizione, una fase di passaggio in cui i rapporti tra gli uomini e le donne sono un po' una battaglia, ecco. C'è questo momento. Non so ben spiegare perché, ripeto, perché poi alla fine io ho fatto un film, non ho una consapevolezza filosofica rispetto a questi temi. Probabilmente c'è un momento di... Infatti uno dei titoli possibili di questo film sarebbe stato Nella battaglia. Così sta un po' nella battaglia quando osservo i rapporti amorosi e terosessuali, no, gli uomini e le donne, sì. C'è questo momento, non so spiegare perché, forse è un passaggio storico. Allora, prima che te lo dica qualcun altro, magari te lo dico io, si stanno per sposare. Ah sì? È già incinta? Beh, adesso io ho questo, non so se... Oh, Claudia!